Il Torino, lo vedete in maglia scura, che già aveva in animo di allungare comunque la sua bella serie positiva, ha trovato una Fiorentina forte e autoritaria, che ha ben presto indotto i Granata ad organizzare un gioco prevalentemente difensivo, fattosi a tratti anche duro e spigoloso. Per lunghi periodi del primo tempo e per quasi tutta la ripresa, si è giocato nella metà campo degli ospiti, che rafforzavano il rigido dispositivo di copertura, chiamando indietro anche Carelli e Pulici. Soltanto in apertura, gli uomini di Fabri hanno tentato qualche fugace proiezione offensiva. La Fiorentina si fa però subito aggressiva e comincia i ripetuti tentativi di forzare il blocco. Al quarto, Amarildo lascia partire in corsa una fucilata che Vieri respinge di pugno. Dopo qualche minuto, su punizione battuta dal Rizzo, Amarildo e Rogora si avventano di testa e il terzino manda di poco sul fondo. Poi Chiarugi prova, ma senza successo, a sorprendere Vieri con una punizione pallonetto. I Granata resistono e quando possono cercano di alleggerire la pressione. Al sedicesimo, i Viola sfiorano il gol con un tiro di Chiarugi che colpisce il palo. Maraschi entra, ma spedisce alto a porta vuota. Gli avanti della Fiorentina, sostenuti dai centrocampisti e con frequenti inserimenti dei terzini nella manovra offensiva, non concedono soste alla difesa avversaria, che talvolta si arrangia come può. In questo caso, Esposito, dopo una mischia susseguente ad azione desisti Chiarugi-Rizzo, è atterrato senza complimenti da Ferrini. Nella ripresa il Torino rinserra ulteriormente i ranghi e vana è la pressione dei Viola. Tenta Maraschi di testa sul centro di Esposito, ma Puglia lo anticipa. Ancora il centravanti toscano arriva tardi su un pallone allungato in profondità da Amarildo e corretto di testa da Moschino. A questo punto, Fabri sostituisce con Bincon Volchi. Dirà poi che il centravanti era stanco e che in panchina non aveva una punta da mettere al suo posto. Pesaola risponde con l'immissione di Merlo al posto di Mancin, ma la musica non cambia. Dopo uno sprazzo granata con Carelli, che manda sull'esterno della rete, la Fiorentina riprende il suo monologo e Superchi può permettersi il lusso di seguire la partita quasi come uno spettatore. Nonostante il forcing Viola, però, neanche il risultato cambia e il confronto, tradendo in parte le aspettative degli appassionati, si conclude 0-0.